I punti di primo intervento negli ospedali di Larino e Venafro verranno soppressi. L'annuncio ha scatenato reazioni contrarie da più parti per il forum in difesa della sanità pubblica. Le azioni di Toma sono in continuità con quelle di frattura. Hanno scatenato un vespaio di polemiche alle dichiarazioni rilasciate venerdì scorso nel corso di una conferenza stampa sulla sanità dal governatore Donato Toma che a sorpresa ha annunciato la chiusura dei punti di primo intervento negli ospedali Santissimo Rosario di Venafro e Vietri di Larino, il luogo del rafforzamento nei centri interessati delle postazioni del 118. Le parole di Toma hanno contribuito a rendere il clima ancora più ingantescente dopo che nei giorni scorsi lo stesso presidente dell'Aggiunta aveva affermato di essere pronto a sottoscrivere gli accordi di confine in materia sanitaria con la regione Abruzzo. Ma tornando al tema dei punti di primo intervento che hanno sostituito i pronto soccorso e che garantiscono un'apertura giornaliera di 12 ore, va segnalata la dura presa di posizione del presidente dell'Ordine dei Medici di Sernia, Fernando Crudele, il quale si è detto sorpreso della notizia presa dagli organi di informazione. Non è assolutamente accettabile, ha denunciato Crudele, che un servizio così importante per la popolazione venga discusso nelle segrete stanze senza consultare i medici, le organizzazioni sindacali e l'Ordine dei Medici. Chiediamo al presidente della regione Toma, detto Crudele, un incontro urgente per avere gli opportuni chiarimenti. Poche ore dopo anche il sindaco di Casa Calenda, Michele Giambarba, ha rincarato la dose, ritenendo tale scelta assolutamente inaccettabile. Ancora una volta, ha dichiarato il primo cittadino, ci si troverebbe alla presenza di una scelta calata dall'alto, lasciando le aree interne senza un servizio così importante per tutta la popolazione residente. Mi auguro che il presidente Toma, unitamente ai consiglieri della nostra area, possa rivedere tale decisione e magari, ha concluso, valutare insieme ai sindaci dell'area, l'Ordine dei Medici di Campobasso e dalle rappresentanze territoriali eventuali soluzioni alternative. Ma le accuse più dure contro il presidente, che ancora in attesa della nomina commissaria ad acta alla sanità, sono arrivate dal forum in difesa della sanità pubblica, che senza mezzi termini ha parlato di continuità con quanto già accaduto in precedenza, poiché non si tiene conto che la chiusura dei pronto soccorsi, secondo il presidente del forum Italo Testa, avviene senza neppure aver rinforzato i presidi ospedalieri più vicini e in un territorio con una viabilità da terzo mondo.